Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva il decretone, il decretone che verrà probabilmente diciamo licenziato, licenziato vuol dire fatto, approvato, il primo di maggio. Il decretone stabilirà anche il nuovo reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza in realtà non viene cancellato, arriva a un nuovo reddito con delle nuove regole dove i beneficiari saranno molto meno e per alcuni non sarà più un reddito a vita, mentre per altri rimarrà così. È una revisione dei contratti. Quindi il primo maggio, oltre al consueto concertone, c'è anche il decretone. Fa anche rima, no? Durante il concertone verrà fatto il decretone. Il concertone è organizzato come sempre il primo maggio dai sindacati in piazza San Giovanni a Roma. Il famoso concertone. Ecco, è la riunione del Consiglio dei Ministri per il varo di un decreto legge proprio durante la musica degli schiamazzi. Così il decreto viene ribattezzato il decretone. E beh, insomma, 160 pagine con 43 articoli e un libro. Il decretone alla fine è un libro. C'è già una bozza del testo. Verrà all'interno del decretone. Ci saranno le regole del nuovo reddito di cittadinanza. Le regole di assunzione dei contratti a termine, infime nelle norme, per potenziare ulteriormente il taglio del cuneo fiscale in favore dei lavoratori. Per alleggerire così la pressione del fisco sulle buste paghe, il governo può contare con 3,5 miliardi di euro che poi dovranno diventare strutturali. Perché se ci metti 3,5 miliardi di euro vuol dire che poi questo lo devi fare tutti gli anni. Non puoi metterci 3,5 miliardi per un anno e poi tornare alla situazione precedente. Quindi nel DEF, documento economia e finanza, c'è un minor disavanzo nei conti pubblici del 2023 e così saltano fuori questi 3,5 miliardi di euro. Quindi il taglio del cuneo fiscale avrà un altro punto percentuale, salirà al 4%. L'obiettivo del governo è arrivare al 5%. Perché il 5%? Perché tagliando di un 5% il cuneo fiscale in Italia si va allo stesso livello di quelle che sono le tasse sul lavoro che ci sono in Europa. La riduzione è per retribuzioni fino a 35 mila euro. Se tu guadagni più di 35 mila euro vieni ritenuto non idoneo ad avere una riduzione delle tasse. Come se 35 mila euro fossero roba da ricchi, 35 mila euro lordi, in alcuni paesi in Europa non ci arriva neanche lo stipendio minimo. Però in Italia con 35 mila euro viene definito un paperone che va in giro con la macchina sportiva, invece non è proprio così. L'intervento mira a replicare il meccanismo già adottato dal governo con l'ultima legge di bilancio e rafforzare il taglio predisposto a partire dall'inizio di gennaio. Il beneficio dovrebbe scattare dal mese di maggio, quindi con un vantaggio in busta paga per chi ha una retroduzione lorda di 25 mila euro all'anno di circa 15 euro netti in più al mese, che vanno a sommarsi ai precedenti tagli del cuneo fiscale, quindi chi ha circa 2.000 e qualcosa euro lordi al mese, ecco per chi ha uno stipendio di circa 2.000 euro lordi al mese avrà 15 euro circa in più al mese, che sommati a quelli precedenti si ritrova circa 55 euro in più netti al mese in tasca. Le coperture consentono l'introduzione di un ulteriore intervento sul cuneo fiscale soltanto fino al mese di dicembre. E questo è quello che vi dicevo prima, sti soldi servono fino al 31 di dicembre, quindi non è un intervento strutturale, è un intervento con una scadenza, cioè questi 55 euro in più in totale che ci sono in più nelle buste paghe hanno una data di scadenza. Se non vengono trovati altri soldi a dicembre si ritorna alla situazione di prima. Dal punto di vista politico però il governo segna un ulteriore avvicinamento all'obiettivo dichiarato di un taglio di 5 punti del cuneo fiscale. L'altro grande tema su cui interviene il decretone è il reddito di cittadinanza. La misura bandiera dei 5 stelle intanto cambia nome, sembrava che si dovesse chiamare mia misura per l'inclusione attiva, ma nelle ultime bozze del decreto è ribattezzato GIL, garanzia per inclusione. La differenza sostanziale con il sussidio del governo Conte è diverso, nel senso ci sono delle, adesso non facciamo a tempo a raccontare cosa sarà il nuovo reddito di cittadinanza che continuerà ad esistere in base, verrà erogato a chi ha in famiglia minori o anziani e provvederà un assegno fino a 1150 euro mensili. Nel caso degli occupabili la legge di bilancio già stabilisce che non riceveranno più il reddito di cittadinanza dal mese di agosto. In compenso otterranno un assegno transitorio se seguiranno corsi di formazione. La nuova indennità per gli occupabili si chiamerà PAL, presentazione di accompagnamento al lavoro e vale 350 euro al mese. Nella riforma figura inoltre un'ulteriore misura di politica attiva. Si chiamerà garanzia per l'attivazione lavorativa il GAL. La revisione del reddito di cittadinanza non piace a Ellie Schlein. Stanno cercando di fare uno spezzatino del reddito di cittadinanza che invece va difeso. Il nostro paese non può permettersi di non avere questo strumento. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.